grande successo per l'evento di solidarietà il bosco incantato organizzato dallo sportello dei sogni e patrocinato dal comune di salerno che si è tenuto mercoledì 27 novembre all'interno del vivaio verde garden l'evento in bilico tra street food e magia aveva l'intento di raccogliere fondi per realizzare i sogni dei malati oncologici di ogni età lo sportello dei sogni è dedicato i pazienti con un'età compresa tra i 3 e i 99 anni affetti da specifiche patologie oncologiche e mille esaudire i sogni di tutti i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio italiano sono convinta che questo possa donare in futuro tanta luce e un periodo così buio per i pazienti che si torna a fronteggiare tale malattia abbiamo raccolto oltre 10.000 euro un grazie di cuore ai tanti donatori che ci hanno sostenuto agli sponsor alle attività di ristorazione beverage e catering che si sono messi a disposizione e un ringraziamento particolare va a ciccio costantino e gianni nadeo ora ci metteremo subito al lavoro per esaudire alcuni dei desideri di giorni pazienti che si sono rivolti allo sportello dei sogni